Si intitola I cammini della salute, il nuovo progetto presentato al CST di Domodossola e che coinvolge le associazioni Parkinsoniani VCO, Lilt VCO e Amarene. Sono intervenuti Silvano De Regibus, segretario Parkinsoniani VCO, Francesco Pesce, presidente Lilt VCO e i consiglieri di Amarene. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.